1. Max Papeschi, appena sposato del stampa digitale su pannello, esemplare 1 di 7, opera firmata, autentica dell'artista su fotografia. A settembre, scorso settembre, abbiamo aperto la galleria con una bellissima mossa di Max Papeschi. Prezzo di base d'asta, 1000 euro confermati al banco, 1000 per il banco, 1100, 1200, 1100 per lei. 1100, 1100 è suo, 1100 per la prima, 1100 per la seconda, Doriana 1200, 1200, 1300 Sala, 1400 Doriana, 1400, 1800 la voce, 1900 Sala, Sala 1900, aspetto 2000. 1.900, aspetto 2000, 2000 confermati, 200 Sala, 200 Sala, aspetto 22 dal telefono, 200 Sala, aspetto 22 dal telefono. 2.900, confermati 22, 23 Sala, per la Sala 23, aspetto 24, 23 Sala, aspetto 24 dal telefono. 23 Sala 23, 24, 25, 25, 25, aspetto 26, 25 Sala, aspetto 26 dal telefono, 26 confermati. 23 Sala 23, 27 Sala, aspetto 28 dal telefono, 28 confermati, 29, 29, aspetto 3000 dal telefono, 29, 29 per la, 3000, 32, 32 Sala, aspetto 34, 32 Sala, aspetto 34, 32 Sala, aspetto 34, 32 Sala per la prima, 32 Sala per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2.